Il Raganello da ieri è il corpo di reato più lungo d'Italia. La Procura di Costruvilleri ha firmato il decreto di sequestro probatorio dell'intera area attraversata dal torrente killer, che lunedì ha seminato la morte tra gli escursionisti. Il decreto, firmato dal procuratore Eugenio Facciolla, è stato notificato ai sindaci dei quattro comuni attraversati dal corso d'acqua, Civita, San Lorenzo Bellizzi, Franca Villa Marittime e Cerchiara di Calabria. La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti, ipotizzando i reati di omicidio colposo, lessioni colpose, inondazione e omissione d'atti d'ufficio. Due le domande ricorrenti. Chi doveva occuparsi della sicurezza? Poteva essere prevista l'onda di piena che ha scagliato uomini e donne, anche dei bambini, a diversi chilometri di distanza dal Ponte del Diavolo? A breve, almeno così, emerso lunedì sera, vale a dire, nell'incontro che il sindaco Tocci ha avuto in prefettura a Cosenza, dovrebbero partire due procedimenti, uno di natura amministrativa, sollecitato dal ministro Sergio Costa, e uno penale. Ore difficili soprattutto per il sindaco di Civita, Alessandro Tocci. Sul tavolo ci sono soprattutto le critiche sulla sicurezza necessaria per entrare all'interno del canyon, principale poleoattrattore di Civita col famigerato Ponte del Diavolo. Già lunedì scorso, ha precisato Tocci, abbiamo consegnato il nostro piano di protezione civile, un'ordinanza del 1997, che riguarda la fruizione delle gole del Raganello e un'altra delibera. In pratica, il regolamento approvato in Consiglio Comunale con una piccola postilla riguardante i decreti attuativi. Quel che resta da capire, insomma, è se vi sia stata negligenza e inisservanza delle regole di sicurezza da parte dei vari enti.